buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale oggi volevo farvi vedere un programmino che io trovo spettacolare davvero soprattutto per chi come me ma penso anche voi avete sul vostro computer o sui vostri hard disk pieni di musica per esempio io di immagini di video insomma di tutti quei file che qualche volta bisogna andarli a cercare e purtroppo spesso il search di windows devo dire la verità non è così performante e allora io quando da quando ho trovato questo programmino devo dirvi che comunque lo utilizzo e mi trovo davvero bene e adesso ve lo faccio vedere programmino si chiama wits file eccolo qui wits file è un programmino che permette adesso vi faccio vedere come funziona ma è di una banalità cosmica ragazzi vi permette proprio di fare delle ricerche all'interno del vostro computer in una di una facilità e di una precisione stratosferica allora qui da qui lo andate a scaricare quindi fate download io chiaramente già l'ho fatto vi prendete l'installer o vi prendete la versione portable io generalmente scelgo la versione portable perché perché è inutile che installo un software che non uso tutti i giorni quindi magari lo vado a lanciare il momento in cui mi serve c'è anche la possibilità di avere delle versioni supportate come in questo in questo caso il costo secondo me è umano tra virgolette io attualmente sto utilizzando la versione freeware eccolo qui quindi andiamo chiudiamo questa schermata e andiamo qua la versione portable è questa eccola qui wits file 307 portable almeno il momento in cui io faccio questo video la 307 per me è l'ultima scoprendo questo file eccolo qui qui abbiamo il programma la versione portable permette di installare la versione 32 bit alla versione 64 bit nel nostro caso andiamo a lanciare la versione 64 bit eccolo qui tutto qui ragazzi è il software è tutto qui cioè non dovete fare nulla ma adesso voi vedrete quanto è efficace quanto funziona bene questo programmino nella qui posso fare una ricerca di un qualsiasi testo qualsiasi file che ho nel computer quindi ipotizziamo di aprire ecco abbiamo per esempio qui andiamo dentro musica per esempio qui c'ho qualche file e io ho cover per esempio cover è un file immagine allora io vado qua e gli scrivo per esempio cover eccolo qua vedete che lui mi trova tutto ciò che possa avere cover ma ragazzi ma guardate quanta roba è è veramente tanta ma avete visto con che velocità me li ha trovati perché perché quando lo installate lui fa uno scan e quindi memorizza tutto mi ha trovato però anche questo file che si chiama cover eccolo qua effettivamente sta nella cartella carlo music album 1 poi uguale album 2 album 3 album 4 ma se io però volessi andare nello specifico e dire dato che so che cover è un'immagine facciamo così dammi tutti i file l'immagine a quel punto lui vedete che mi ha tolto tutto il resto e mi ha trovato solo i file cover image quindi a questo punto io vado a vedere che con la parola cover dentro questo computer ci sono altri altre immagini eccole qui e questo ragazzi è fenomenale posso andare anche a dire per esempio vedete la mia versione cover so che una versione piccolina circa 40k io posso andare a dire di prendere le le versioni medie eccole qui e vedete non ha trovato nulla perché da 1 a 128 mega grandi non ha trovato nulla andiamo su piccole a questo punto piccole però trova perché come vedete grandi medie va da 1 a 128 mega grandi da 128 mega un giga ma il mio pesa piccolino perché parliamo di k quindi io so che un file piccolo quindi mi elimino tutte le cose grandi che potevo avere e cerco piccoli volendo potevo cercare anche molto piccoli eccoli qui molto piccoli vedete me ne ha tolto uno però nel mio caso nel mio caso posso mettere già piccoli e me le ha trovate e quindi siamo a posto posso anche andare a dirgli la data gli ultimi sette giorni ultimi 14 giorni 30 30 e 60 quindi diciamo che la mia ricerca effettivamente posso fare una ricerca chirurgica ragazzi tenete presente che non ho installato nulla cioè non ho installato niente ho lanciato un programma su una piccola macchina virtuale dove ha determinati file stessa cosa però la potrei fare per esempio con l'audio vedete io ho un brano che si chiama believe eccolo qui lo copiamo lo andiamo a scrivere a fare un copio incolla qui ovviamente lui mi dice immagino non ho trovato niente ma se invece cerco audio va bene e cerco tutte le dimensioni eccolo lì che il brano mi esce fuori ovviamente se io qui lascio piccolo non può essere perché il brano è grande 6 mega quindi devo andare a fare minimo no scusate oddio medio presumibilmente medio eccolo qua 6 mega fatti va da 1 a 128 mega oppure metto tutte le dimensioni ma la cosa interessante non è soltanto conoscere il nome perché adesso vi ho fatto vedere che col nome trovo tutto la cosa carina è che se io tolgo il nome e gli dico trovami tutti i file audio lui mi trova tutti i file audio che ho su questo computer ragazzi questo è veramente una gran figata possiamo dirlo oppure trovami tutti i file video che ho su questo computer eccoli qui quindi ammettiamo di avere un file video in qualche cartella xy e andiamo a dire oddio dove l'ho messo l'ho messo qua l'ho messo lì dentro dove l'ho spostato non me lo ricordo come si chiama il file forse l'ho chiamato mario l'ho chiamato franco l'ho chiamato pippo l'ho chiamato un nome che volete voi mentre invece questo programma non gliene importa nulla come l'ho chiamato perché come vedete la parte del search è vuota basta che li metto video e lui mi va a trovare tutti quelli che hanno un'estensione video quindi ho qua i file ce li ho tutti come io qui ho i file immagine che vi ho fatto vedere prima guardate quanti eccole la tutti i file immagini e qui ho tutti i file audio beh ragazzi per me vi dico la verità questo programma è eccezionale soprattutto per chi deve cercare qualcosa va bene poi posso cercare i file archivio i file archivio ragazzi sono quei file che sono zippati quindi io qui o sono cab o sono 7 zip o via o via dicendo quindi posso andare a cercare file file documento va bene dove otti xd xml doc e così via gli eseguibili tutti i file vedete ex punto ex punto msi e via dicendo eccoli qui oppure tutte le cartelle e qua ce ne stanno una tonnellata insomma a questo punto oppure tutti i tipi di di file e a quel punto lui qua non trova nulla perché gli devo dare un nome per andarlo a cercare però già per esempio questa situazione qua ragazzi io la trovo sconvolgente bene ragazzi il il software è tutto qui ha veramente quattro configurazioni in croce non dovete fare dovete fare poco in niente qui voi potete avere ecco delle impostazioni ma potete metterlo nel menu contestuale di explorer all'avvio di windows diciamo c'ha poche configurazioni ma io personalmente io personalmente lo utilizzo così come ve l'ho fatto vedere l'ho scaricato ce l'ho in una cartella e quando ho necessità di trovare qualcosa la trovo sempre se devo cercare un file audio un file video un file immagine la trovo sempre perché già in questo modo come vi ho fatto vedere prima immagini oppure video quello che sia già così per me è geniale perché mi risolve un sacco di problemi bene ragazzi questo video è corto tanto per farvi vedere questo questo software come al solito vi lascio il link in descrizione provatelo fatemi sapere che ne pensate se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale così mi date un pochino di supporto e noi ci rivediamo al mio prossimo video